Faremo delle serate in cui noi che siamo il ristorante che ospita la Rassegna, faremo le nostre ricette tradizionali nella prima serata. Nella seconda faremo un menù con delle ricette nostre e soprattutto le ricette di Teresa, che è stata la cuoca dell'hotel Principe Stella Michelin qui a Pesaro. Mentre nella terza serata avremo come ospite la cuoca del ristorante Cucina di Alettale di San Costanzo da Rolando e mischieremo sempre un po' di ricette nostre con ricette di questa signora e in questo caso avremo un po' di ricette di mare e un po' di ricette di terra. Abbiamo pensato di creare questa iniziativa che spero che sia solo al primo anno, di continuarla anche nei prossimi anni per dare un riconoscimento alle mamme che con la loro passione per la cucina hanno creato dei ristoranti. Dalla cucina di casa hanno saputo portarla a un livello più alto nella cucina di un ristorante, una di queste è la mia, mamma, ma ce ne sono tante altre per cui abbiamo pensato di iniziare a fare questa rassegna, di cui questo spero sia il primo anno e di andare avanti nei prossimi anni. Io sono un po' il filo conduttore di queste serate, essendo anche figlio di mamma Teresa e faccio una serata chiaramente dedicata a lei che non c'è più, ma questo vuol dire di valorizzare non solo le mamme, quando valorizziamo le mamme valorizziamo il territorio, valorizziamo il nostro sapere, le tradizioni. Oggi le tradizioni vengono un po' spente, nel senso che c'è un'omologazione della ristorazione. Io credo che questa non sia un'operazione di nostalgia, ma sia veramente una nota in più per dare spunto alla ristorazione di togliere magari tante cose che vengono dai tropici o dai sali inusuali. Ecco, invece bisogna ritornare veramente alla tradizione, una tradizione fatta bene, magari sgrassata, magari presentata in un modo migliore e un abbinamento con i vini che mi compete da sempre e quindi un giusto abbinamento perché il vino è un alimento, è un alimento liquido che si sposa a un alimento solido. Quindi tutto questo fa parte di una cultura nostra che abbiamo qui nel nostro territorio, che abbiamo noi italiani, nessun'altra parte del mondo parla di ristorazione e di abbinamento cibo-vino. Questo vuol dire anche che noi siamo i primi e i migliori sul cibo, non dobbiamo scimmiottare tutto il resto del mondo. Ci stanno assalendo con dei prodotti inusuali che noi non dobbiamo assolutamente accettare. Il primo è venerdì 10 a cena, il secondo venerdì 17 e il terzo venerdì 24 nel mese di marzo.